Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi vi faccio un video un po' particolare. Visto che è un po' che non ve ne faccio, ho pensato di fare un video lettura e quindi buon ascolto. Il cane fedele. In una vecchia casa alla periferia di una città grigia e piena di smog viveva la famiglia Briar. Il giovane Alfie, i suoi genitori e Rudy il cane. Un freddo pomeriggio di novembre, mentre il vento lulava e le strade erano deserte, Alfie e Rudy dormicchiavano accanto al caminetto. A un tratto la mamma di Alfie irruppe nella stanza agitando dei fogli. Ha appena chiamato papà. Disse, deve lavorare fino a tardi ma si è dimenticato certi documenti importanti e ne ha bisogno per una riunione domattina. Quell'uomo è così distratto, continuò. Mi stupisco che ricordi di vestirsi prima di andare al lavoro. Alfie guardò i fogli, grafici complicati, lettere, documenti pieni di bolli e timbri ufficiali, e si immaginò al padre in preda al panico. Diede uno strizzone a Rudy e si tirò asvogliatamente in piedi. «Le li porto io», disse spazzolandosi di dosso i peli del cane. «L'ufficio non è lontano, non dovrei metterci molto». «Non so», rispose sua madre, «si sta facendo buio, mi pare poco prudente. Senti, perché non porti Rudy con te? Non si sa mai». «Rudi?» rise Alfie guardando il vecchio cane stanco. Il povero animale aveva il respiro lento e affaticato, il manto spelacchiato, e sotto la pelle si vedevano spuntare le costole. «No», indecise, «Rudi deve riposare, è meglio che rimanga qui. Sono andato nell'ufficio di papà tante volte, non è un problema». «Va bene, però mettiti la sciarpa», disse la mamma mentre Alfie si infilava le scarpe e il cappotto. «Fa freddo, non prenderti un malanno». «Non ti preoccupare», rispose il ragazzo, annodandosi la sciarpa. «Torno presto». Infilò con cura i documenti nella cartella, se la mise a tracolla e si avviò. Fuori soffiava un vento gelido, il cielo era avvolto da una coltre di smog e le ultime luci del giorno lasciavano rapidamente il posto al bagliore giallo dei lampioni. Mentre procedeva il suo respiro produceva nuvolette di vapore, Alfie si fermò un attimo e si voltò a guardare la casa, calda e accogliente. Poi seppellì il naso nella sciarpa, cacciò le mani in tasca e si rimise in marcia con la pesante cartella che gli rimbalzava sul fianco. Nel camminare, sognando il calore del caminetto, notò con la coda dell'occhio qualcosa che si muoveva. Da prima non vi diede peso, pensò semplicemente che fosse il tremolio dei lampioni, o forse un topo che scorrazzava. Ma come girò l'angolo per imboccare un'altra strada, eccolo di nuovo, un rapido guizzo. Si voltò appena in tempo per scorgere un'ombra grossa e scura che svaniva tra due edifici. Un brivido gli corse giù per la schiena. È solo uno scherzo della fantasia, si disse stringendosi più forte nel cappotto. Continuò a camminare e per distrarsi si mise a pensare a Praterie Selvagge, un radiosceneggiato ambientato nel Far West che andava in onda quella sera. Era immerso in suoni di sceriffi eroici, astuti banditi, quando raggiunse l'incrocio successivo. Fu a quel punto che lo udì l'inconfondibile il suono di qualcuno o qualcosa che ansimava. Il cuore gli batte forte e le palme delle mani iniziarono a sudarli. È solo il vento, si disse. Sono già a metà strada. Prima raggiungo l'ufficio di papà e prima torno a casa. Ma a ogni passo l'ansimare si faceva sempre più vicino, finché Alfie fu certo che c'era qualcuno dietro di lui. Si girò di scatto e vide. Una strada deserta. Non c'era nessuno. L'ansimare era svanito. Non c'erano banditi o mostri in agguato. Tirò un respiro di sollievo e riprese il cammino. Non riusciva però a liberarsi dall'inquietante sensazione di essere osservato. In mezzo alle case dietro ogni angolo percepiva dei movimenti, scorgeva strane ombre e sentiva il respiro di qualche creatura nascosta. Ciò, che aveva ritenuto uno scherzo della fantasia, sembrava ora straordinariamente reale. Alfie affrettò il passo, sperando di lasciarsi dietro i timori, evitò le scorciatoie attraverso vicoli bui e cercò di tenersi il più possibile sotto la luce dei lampioni, ma, più di una volta, un rugito profondo che veniva dalle tenebre gli fece cambiare percorso, e il ragazzo ben presto finì col perdersi del tutto. A un certo punto imboccò una strada senza uscita, con un alto recinto di fronte a edifici su entrambi i lati. Convinto di essere stato attirato in una trappola mortale, sentì il cuore marterrale nel petto e il sudore che gli irrigava la schiena. Rimase fermo immobile, trattenendo il respiro, ma non successe nulla. Lentamente tornò sui suoi passi, spiando dietro ogni angolo, con la paura che qualche creatura balzasse fuori all'improvviso, ma questa volta non incontrò nessuna ombra in movimento e non udì alcun rumore spettrale. Anche il vento era calato e l'unico suono era il tap 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 delle sue scarpe sul selciato. Quando infine raggiunse una strada familiare, si vergognò di se stesso. «Cosa penserà papà quando mi vede?» Si chiese, guardò l'orologio e scoprì quanto si era fatto tardi. In preda al panico scordò tutti gli strani avvenimenti della serata e stringendosi la cartella al petto, si mise a correre a perdifiato, in direzione dell'ufficio del padre. Sfrecciò accanto a edifici silenziosi, si scapicollò lungo strade di sestate e costeggiò file di alberi spogli. Aveva i piedi doloranti e il fiato corto. Ecco, quasi arrivato, si consolò ansiemando. Mentre correva, un'ombra gigantesca spuntò da un vicolo. Si allungò e si allargò, assumendo la sagoma di una bestia dalla testa enorme e le rocci cavernose. Era accompagnata da un soffice calpestio sul selciato. Alfi sentì il cuore in gola. Improvvisamente l'ufficio di suo padre gli sembrò più lontano che mai. «Cosa faccio?» sussurrò timoroso di procedere, ma deciso a raggiungere il padre. Sentiva insimare, anusare e pesticciare mentre la creatura si avvicinava. Alfi si tene forte. Fece un passo indietro, poggiò a terra la cartella e strinse le mani a pugno. «Vieni fuori!» gridò, incapace di nascondere la paura della voce. «Ti aspetto!» Arrivò con la rapidità di un tornado, svoltando l'angolo, così in fretta che Alfi cacciò un urlo di paura, un balzo, e il ragazzo si trovò inchiodato a terra da quattro grandi zampe, mentre la lingua di un grosso cane nero gli leccava la faccia. E non un cane calassiasi, il suo cane. «Rudi!» gridò Alfi tra una leccata di cane e l'altra. «Che cosa ci fai qui? Mi hai spaventato!» «A morte!» spinse via delicatamente l'animale e si alzò scuotendosi di dosso la polvere. «Allora eri tu che mi hai inseguito fin qui! Ma fatti guardare, non ti ho mai visto così vispo da quando eri un cucciolo!» Rudy scodinzolò, saltò in qua e in là e scosse il lucido pelo nero. «Sembri così giovane!» esclamò Alfi incredulo, chiedendosi se fosse veramente il suo cane. Il Rudy che aveva lasciato sonnecchiare presso il cammino aveva gli occhi appannati dall'età e non ci vedeva quasi più. Eppure ora era lì che lo fissava con sguardo limpido e vivace. Alfi sussultò, guardò quando una finestra si spalancò sopra di loro e un uomo dal viso ponazzo urlò. «Basta con questo chiasso! Non riesco a lavorare con tutti questi strepiti! Mi scusi!» rispose Alfi, «il mio cane mi ha inseguito e...» «Cane? Quale cane?» lo interruppe l'uomo. «Rudi, il mio cane!» Alfi si girò per indicare il grosso cane nero, ma Rudy non c'era più. «Era qui un attimo fa!» dissi cercandosi intorno con lo sguardo. Scocciato, l'uomo grugnì e chiuse la finestra sbattendo le imposte. Alfi si mise a cercare il cane, ma questo si era dileguato senza traccia. «Dove può essere andato?» si domandò stupito e confuso all'improvvisa sparizione. «Pau!» Trasalito, Alfi si voltò e vide Rudy seduto sulla cartella, con la testa sulle zampe, come se fosse sempre stato lì. «Dove? Come?» gli chiese prima di ricordarsi che i cani non possono rispondere. Si guardò intorno incerto se riportarlo a casa o proseguire verso l'ufficio. Ma quando tornò a girarsi, Rudy era di nuovo scomparso, e con lui anche la cartella. Un altro ratrato attirò l'attenzione del ragazzo. In fondo alla strada, il cane trotterilava verso casa con la cartella in bocca. E il grido Alfi inseguendolo non poteva crederci. Quando l'aveva lasciato, Rudy riusciva stento ad alzare la testa, figurarsi e portare un peso così. Ora correva verso casa dondolando la cartella come se fosse più leggera dell'aria. «Rudi, fermati!» ma il cane non gli prestò attenzione. Alfi lo inseguì, sperando di raggiungerlo prima che si dileguasse, ma il cane era troppo veloce, e il ragazzo era già stanco dalla corsa precedente. Prima che se ne accorgesse, erano tornati a casa. Alfi sentì un tuffo al cuore, il suo viaggio era stato inutile. Poi notò che Rudy saltava su e giù davanti alla porta d'ingresso dopo aver abbandonato la cartella lì vicino. Mugolavra e graffiava la porta, e lo guardava con occhi tondi e tristi, impaziente di entrare. Alfi sospirò. «Beh, se non altro la casa sarà calda e accogliente», disse tirando sulla cartella. Aprì la porta e immediatamente indietreggiò, settendo una forte puzza di bruciato. Prima che potesse fermarlo, Rudy si fiondò dentro la casa. «Rudi!» gli gridò dietro. Gli gridò Alfi, si coprì in fretta la bocca con la manica del cappotto e lo seguì. Il corridoio era buio, e l'unica luce che si vedeva era un bagliore rosso proveniente dal salotto. Quando andò a indagare, rimase a bocca aperta. Un ciocco del caminetto era caduto dalla grata, e ora stava bruciando un asse del pavimento. Il ragazzo prese le pinze, sollevò il ciocco e lo rimise sulla grata, ma l'asse fumava ancora. Allora Alfi si tolse il cappotto e lo sbatté più volte sul pavimento, come aveva visto fare nei film, finché riuscì a estinguere completamente l'incendio. Poi aprì tutte le finestre per far uscire il fumo, e si accasciò a terra esausto. Doveva essersi addormentato, perché poco dopo sentì sua madre che lo scuoteva delicatamente, con aria preoccupata. «Stai bene, ma che diamine è successo?» gli chiese. «Sono appena tornata, c'è una gran puzza di bruciato e le carte di tuo padre sono ancora qui». Mentre la mamma si preparava una tazza di cioccolata, Alfi le raccontò ogni cosa. Dal momento che era uscito di casa fino alla comparsa improvvisa di Rudy e la scoperta dell'incendio. Quando ebbe finito, sua madre aggrottò le sopracciglia. «Non è possibile, tesoro. Rudy ha avuto un collasso appena te ne sei andato, e l'ho portato subito dal veterinario. Fece una pausa, e la tristezza lei non dò il viso. Mi dispiace, caro. Quando siamo arrivati lì, Rudy non si è più risvegliato. Se n'è andato. Non poteva essere lui che ti ha seguito. Ci fu un attimo di silenzio, mentre Alfi tentava di comprendere ciò che la madre gli aveva detto. Come Rudy se n'era andato? Impossibile, l'aveva visto con i suoi occhi. Ma poi si ricordò di come gli era sembrato giovane e di come era misteriosamente svanito. «Probabilmente non mi crederai», disse alla fine, «ma Rudy è venuto a cercarmi stasera. Mi ha condotto a casa per mostrarmi l'incendio. Vegliava su di noi, e forse lo farà sempre». Bene amici, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollicino e, se volete, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Io ora vi saluto, vi mando un bacione, fatemi sapere nei commenti se questa tipologia di video vi piace o meno, e magari se avete qualche favola o racconto che volete sentirmi leggere. Bene, vi auguro come sempre una valanga di bellissime letture. Ciao amici, alla prossima!